Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Benvenuti a questo speciale video dedicato a una storia che ha tenuto in sospeso il mondo della musica per anni. La scomparsa di Ilenia Carrisi, la primogenita dei celebri cantanti Albano e Romina Power. Sorprendentemente emergono dettagli che potrebbero indicare che Ilenia potrebbe essere ancora in vita. Una storia avvolta nell'ombra che riserva molte sorprese. Ilenia Carrisi, nata il 29 novembre 1970 a Roma, è stata una giovane promettente che sin da piccola ha dimostrato una predisposizione per il mondo dello spettacolo e della letteratura. Ha approfondito i suoi studi presso il prestigioso King's College di Londra. Tuttavia, il suo spirito avventuroso l'ha spinta a intraprendere viaggi solitari, come quello in Belize nel 1993, dal quale non fece mai ritorno. Da quel momento, il 6 gennaio 1994, la famiglia Carrisi è stata colpita da una tragedia che ha lasciato un vuoto inspiegabile nei loro cuori. Ilenia era scomparsa e, nonostante gli sforzi incessanti della famiglia nel corso degli anni, nessuna traccia della giovane è mai stata trovata. Recentemente, una notizia proveniente dalla Spagna ha sollevato nuove ipotesi. Si dice che Ilenia sia stata avvistata a Berlino, la capitale tedesca. Tuttavia, ciò che colpisce di più è la possibile esistenza di una famiglia che la protegge e la nasconde dal mondo. Il magazine tedesco Neueblatt ha intervistato due veggenti, Marie e Lilo von Kiesenvetterlo, che hanno rivelato che Ilenia conduce una vita anonima e che ha avuto problemi seri con la droga in America. Queste affermazioni stanno ora attirando l'attenzione della famiglia Carrisi, che cerca disperatamente risposte. Romina Power, madre di Ilenia, ha mantenuto viva la speranza di rivedere la sua amata figlia e ha condiviso un messaggio toccante su Instagram, dedicato a Ilenia e al loro legame indissolubile. Nonostante le circostanze oscure che circondano la sua scomparsa, la famiglia Carrisi ha continuato a sperare. Oggi, siamo qui per condividere con voi queste recenti rivelazioni e per esplorare insieme la possibilità che Ilenia possa ancora essere viva. Restate con noi, perché questa storia è tutt'altro che conclusa. Non dimenticate di lasciare un commento e di condividere il video per diffondere la verità.